In un bicchiere di vino rosso si cedano storia, cultura e sapere contadino di una regione. Scopriremo come si produce un vino rosso, a partire da quale uve e con quali tecniche, per poi fare un viaggio nelle regioni principali per la produzione di vini rossi. Se vuoi sapere cosa c'è dietro a un apparentemente semplice bicchiere di vino rosso, questo è il corso per te. Iniziamo! Grazie!